Tutta la letteratura che tu trovi sulla laser terapia parla sempre di joule su centimetro quadrato e spesso trovi delle indicazioni anche molto più basse, quindi questa macchina ha dei dosaggi molto più alti. Questa azienda nasce dall'umana ed è venuta a lavorare in ambito veterinario successivamente, quindi chiaramente sono partiti dai dati che avevano in medicina umana. E ti devo dire onestamente che anche io all'inizio ero un pochino scettica, soprattutto avevo un po' paura di questo effetto termico, perché venivo da macchine che non avevano minimamente un effetto termico, per cui chiaramente la paura è sempre quella di bruciare il paziente e non capivo effettivamente la necessità di tutta questa quantità di energia. Ti devo dire che questa quantità di energia mi porta a quasi aver dimezzato il numero di sedute, per cui ad avere un effetto antalgico immediato già dalla prima seduta e questo è un feedback palese che tanti tanti proprietari attenti sono in grado di darti e ad avere un risultato clinico estremamente veloce. Grazie a tutti. Grazie a tutti.